Padre d'amore grazie per questi meravigliosi insegnamenti necessari per la preparazione del nostro carattere per la tua venuta Signore. Dacci il tuo spirito che continui a guidarci e ad insegnarci Signore attraverso la bocca di questi nostri fratelli. Signore ti preghiamo di stare con noi ancora di più in questa occasione Signore non perché abbiamo qualche merito ma solamente per i meriti del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Buongiorno a tutti spero che state bene che state trascurando un bel sabato. Quindi io adesso parlerò della seconda parte in cui tratterò il tema della santificazione nel santuario. Sappiamo che siamo stati chiamati all'esistenza e abbiamo un messaggio speciale. Ci sono quelli che pensano che siamo stati chiamati e che il messaggio è solo riassunto nel sabato del quarto comandamento, quando invece non è così. Abbiamo un tesoro particolare che è il santuario. E se conosciamo il santuario, noi ci allontaneremo dall'eresia. Quindi parlerò del santuario, parlerò della santificazione nel santuario. Condivido il mio schermo con voi. Ok. Parlerò del luogo santo. Il luogo santo è la santificazione. La liberazione dall'influenza del peccato. Qual è lo scopo del santuario? Lo scopo del santuario è di poter rivelare, diamo Dio, attraverso il santuario, ti rivela il modo in cui risolverà la questione del peccato. Perché l'unico problema che abbiamo sulla terra e nel mondo, nell'universo, è il peccato. Se qualcuno ci parla del santuario senza parlare del peccato, non va bene. Sarebbe un messaggio edulcorato, con un mischio con la verità e l'errore. Il santuario deve parlare di come Dio ha pensato nella sua saggezza immensa, infinita, come risolvere la questione del peccato. E ricordiamoci che nel Salmo 77, versetto 14, c'è il salmista che dice che pensava, quando lui vedeva la gente, la gente che non seguiva le vie di Dio, prosperare, perché lui pensava nel suo cuore, anche io, forse anch'io, cercherò di fare come loro, perché sono loro quelli che non seguono Dio, che stanno prosperando. Però, dal momento in cui è entrato nel santuario di Dio, lui dice stesso, oh Dio, le tue vie si vedono nel santuario. Chi è Dio grande come Dio? Perché lui ha visto quella fine di quelli che non seguono le vie di Dio. E la parola vie in ebraico è derech, che significa viaggio, strada, cammino, direzione. Quindi le vie di Dio si trovano nel santuario. La direzione, il cammino, la strada, per poter capire il pensiero che c'è nel cuore di Dio, si trova nel santuario. E il santuario, la via, il santuario è come un GPS, che ha un punto di partenza, un punto di arrivo. E vedremo oggi che parleremo del punto, diciamo, della santificazione nel luogo santo, ricordandoci un po' anche della giustificazione, così, in qualche linea, in qualche parola, perché dobbiamo partire da un punto A a un punto B. Il santuario, gli elementi importanti, diciamo che il santuario era nel deserto, se vi ricordate bene, per quelli che non sanno cos'è il santuario, Dio ha rivelato, diciamo, attraverso le cerimonie che si facevano nel santuario, come avrebbe risolto il problema del peccato. E il santuario, la prima cosa che si nota nel santuario è la porta. La porta c'è nel cortile, c'è l'altare dei sacrifici, c'è la conca di rame, e il tabernacolo in sé, diviso in due punti, in due compartimenti, che sono il luogo santo e il luogo santissimo. Quindi, per l'introduzione, questo è cos'è il santuario. Allora, Dio per risolvere la questione del peccato, abbiamo detto, lui dà il santuario, e attraverso il santuario possiamo già vedere come lui ha lavorato con il popolo di Israele nel deserto, perché noi siamo il popolo di Israele spirituale. Prima andiamo a vedere come Dio, il percorso che Dio ha fatto con il popolo di Israele nel deserto, come si è comportato. Tipo questo è il santuario, in modo ridotto, e abbiamo l'altare dei sacrifici, la conca di rame, la tavola dei panni di proposizione, l'altare dei profumi, i candelabri, e nel luogo santissimo abbiamo l'arca dell'Alianza. Come Dio ha lavorato con il popolo di Israele? Già, ricordiamoci che in esodo capitolo dodici, prima che il popolo esca dall'Egitto, Dio aveva chiesto di sacrificare l'agnello fra due sere, come Gesù Cristo è morto fra due sere. Quindi in esodo dodici c'è la Pasqua che rappresenta la Pasqua, l'uscita dall'Egitto. E poi loro attraversano il Mar Rosso in esodo capitolo quattordici, che è rappresentato dalla conca di rame. In esodo capitolo sedici, c'è la manna che cade dal cielo, come lui dice in Giovanni capitolo sei, io sono il pane sceso dal cielo, Gesù Cristo. E poi in esodo capitolo diciannove, lui voleva fare del popolo una nazione santa. Come ha detto il mio fratello Marco, il proposito di Dio, quello che c'era nel cuore di Dio, era di fare di tutto l'Israele, tutto il popolo, una nazione santa. Non solo un popolo, non solo una parte, no. Solo dopo, in esodo capitolo trentadue, quando hanno fatto il vitello d'oro, Dio ha scelto solo i leviti per poter lavorare nel tempio. Ma in realtà Dio voleva fare di tutto il popolo una nazione santa. E in esodo capitolo diciannove, da nove a undici, Dio gli dice di passare tre giorni di preghiera per la preparazione, per poter ricevere i comandamenti in esodo capitolo venti. Quindi questo è il percorso del popolo d'Israele nel deserto. E Dio ha anche, attraverso un santuario, un piano per noi. Noi quando arriviamo a Gesù Cristo, quando arriviamo a Dio, la prima cosa che dobbiamo fare è di accettare Gesù Cristo il sacrificio di Gesù Cristo per noi, la morte di Gesù Cristo per noi. La bella notizia è che quando nasciamo abbiamo la bella notizia che Dio è morto per noi, Gesù Cristo è morto per noi. Senza chiedere il nostro permesso. È la bella notizia. Quindi, quando noi vogliamo, accettiamo di essere figli di Dio, dobbiamo per prima cosa accettare il sacrificio di Gesù Cristo. E non finisce lì. Perché sono quelli che dicono che la croce, la croce Gesù ha fatto tutto, allora tutto è finito, l'espiazione è finita la croce. Ma non è vero. Perché? Perché non hanno il modello del santuario. Dopo aver accettato Gesù Cristo come il nostro salvatore, dobbiamo passare attraverso le acque battesimali. nello stesso modo in cui il popolo di Israele è passato nella terra, nel Mar Rosso, attraverso il Mar Rosso, anche noi, che rappresenta il loro battesimo, come Paolo lo dice in Prima Corinti, Prima Corinti capitolo dieci, tutti sono stati battezzati, noi dobbiamo passare attraverso le acque battesimali. E non finisce lì. Il nostro percorso è continuo. Andiamo nella tappa della santificazione, dobbiamo passare a fare lo studio della parola di Dio. E non finisce, studiare la parola di Dio non basta. Poi ne parleremo in modo un po' dettagliato. Bisogna essere la luce del mondo, ricevendo lo Spirito Santo. Dobbiamo avere una vita di preghiera e così facendo, Dio scriverà la sua legge nei nostri cori per poter riflettere il suo carattere. Quindi questo è il percorso che Dio vuole per ognuno di noi. Ma nessuno pensa che, non deve pensare che può passare dall'altare dei sacrifici a luogo santissimo senza attraversare tutte queste tappe. No, non è possibile. Quindi Dio ha un proposito per noi e come abbiamo detto, oggi parliamo della santificazione. Sia la giustificazione che la santificazione sono ottenute per fede. Quindi oggi parliamo della santificazione per fede. Giustificazione per fede è nel cortile in cui Dio ci salva dalla condanna del peccato. Perché eravamo condannati, Dio ci ha salvato dalla condanna del peccato, dalla punizione, della trasgressione della legge di Dio che è la morte. Gesù Cristo è venuto per adempiere questo per noi. E nel luogo santissimo c'è la santificazione sempre per fede. È sempre per fede perché chi fa le promesse è sempre Dio e è sempre Dio che ci santifica. perché noi dobbiamo perché tutti quanti come lui dice verso il comandamento in Esodo 31 che quando osserveremo il sabato e il quarto comandamento la gente del mondo guardandoci si ricorderà che Dio capirà che Dio è il nostro creatore e che è Lui che ci santifica. È sempre per fede perché le nostre opere sono come come un vestito sporco come è scritto in Isaia 64 e abbiamo la glorificazione. Quindi nel luogo nel cortile Dio ci salva dalla condanna del peccato dalle conseguenze della trasgressione della legge che è la morte. Nel luogo santo Dio ci salva dall'influenza del peccato e nel luogo santissimo che è la glorificazione Dio ci dà la potenza ci salva dalla potenza del peccato volevo dire. Come si svolgerà allora la santificazione per fede questo fatto di darci di poter salvarci dall'influenza del peccato Dio ha fatto in modo che l'uomo possa capire in modo semplice attraverso queste immagini queste immagini come per un bambino alla scuola i bambini a 4-3 anni l'asilo nido si fa vedere guardate con uno schema così semplice come si farà allora come farà Dio per poter lavorare e fare in modo che possiamo essere avere non essere sotto l'influenza del peccato andiamo nel luogo santo e vediamo gli utensili abbiamo la tavola dei panni di proposizione l'altare dei profumi e il candelabro d'oro come Dio vorrebbe lavorare con noi per poter darci l'influenza dare la vittoria sull'influenza del peccato iniziamo dalla tavola dei panni di presentazione sappiamo che i panni di presentazione erano stati suddivisi in due file e possiamo leggere in Levitico capitolo ventiquattro da cinque a sette prenderai pure del fiore di farina e ne farai cuocere dodici focacce ogni focaccia sarà di due decimi di efa le metterai in due file sei per fila sulla tavola d'oro puro davanti al signore metterai dell'incenso puro sopra ogni fila e sarà sul pane come un ricordo come un sacrificio consumato dal fuoco per il signore prenderai pure del fiore di farina e ne farai cuocere dodici focacce le metterai in due file sei per fila quindi ogni fila ha sei pani se ogni fila ha sei pani sapete cosa dà sei vicino a sei sono dal numero sessanta sei il libro della bibbia sapete quanti libri ha la bibbia sessanta sei libri lui parla già attraverso questo già da un messaggio e per quel motivo qual è l'importanza di questo pane qual è l'importanza della parola di Dio perché la parola è il pane qual è l'importanza della parola possiamo leggere quando Gesù dice in Giovanni capitolo diciassette versetto diciassette santificali nella verità la tua parola è verità santificali nella verità la tua parola è verità stiamo parlando della santificazione in modo semplice adesso stiamo parlando della tavola dei panni di presentazione qual è il motivo qual è l'importanza della tavola dei panni di presentazione che è la parola di Dio il pane è la parola di Dio la parola di Dio ci santifica quindi Dio per poter darci la vittoria sull'influenza del peccato nelle nostre vite ci invita a stare in contatto con la sua parola perché la sua parola è verità santificali nella verità ma cosa fa l'inemico ricordiamoci che nel gran conflitto come abbiamo visto all'inizio di questa di questa serie all'inizio abbiamo visto che in Apocalisse capitolo 12 versetto 7 è scritto ci fu guerra in cielo guerra è polemica ci fu una polemica sul nome di Dio oltre a una guerra fisica ci fu anche una guerra spirituale una guerra di dei e il gran conflitto cos'è? è il mischio della verità con l'errore il mischio della verità con l'errore la verità non la verità ci santifica ma l'errore non ci può santificare motivo per cui non dobbiamo affidare le nostre anime a qualcuno avuto un dottorato o qualcuno che ha avuto una laurea questo non è quello che ci chiede Dio ma di fare come Nicodemo Nicodemo era qualcuno che aveva studiato nelle scuole Nicodemo aveva le lauree era dottore della legge dirigeva la nazione ma Nicodemo non sapeva che bisognava per poter entrare nel reno dei cieli bisognava nascere di nuovo motivo per cui Dio ci invita noi stessi a studiare per noi stessi la domanda è perché noi cerchiamo Dio un'altra domanda ricordiamoci che la parola è così importante per fare un piccolo parlare un po' della storia in qualche parola la parola è così importante che ci sono tante persone che sono morti per causa della parola perché amavano così Dio che sono stati bruciati torturati torturati a causa della parola ma vi faccio una domanda qualcuno di voi potrebbe morire per l'errore tu sai che tu sei nell'errore ma tu vai a morire per l'errore no tantissimi di loro sono stati morti a causa della parola perché la parola è importantissima e il nemico ha sempre voluto cercare di nascondere la parola all'uomo vedendo che non poteva farcela poter nascondere la parola all'uomo cosa ha fatto mischio della verità con l'errore prima la persecuzione come in Apocalisse capitolo 6 quando i sette sigilli sono aperti il primo sigillo vediamo un cavallo bianco poi il cavallo rosso quindi vediamo bene che c'è a un certo momento al terzo cavallo vediamo un mischio della verità con l'errore perché quando la persecuzione non funziona il nemico mischia la verità con l'errore anche fra le nostre fra di noi è per quello che noi dobbiamo studiare la parola per noi stessi per noi stessi dobbiamo studiare la parola e se andiamo in Giovanni 6 versetto 35 possiamo leggere insieme cosa dice Gesù Gesù disse loro io sono il pane della vita chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete Gesù è il pane della vita Gesù è il pane della vita se è il pane della vita ci sarà anche un pane per la morte il pane per la morte cos'è? è l'errore il nemico vuole che rimaniamo nell'errore tipo l'errore gli errori di cui ha parlato mio fratello Marco si si mischia allora la santificazione cos'è? è cadere tanto è giusto cade sette volte si rialza ma in realtà stanno dicendo è giusto nella mente loro è giusto specca sette volte si rialza quindi il giusto non è giusto sulla base del sacrificio di Gesù Cristo ed è fatto che l'uomo dovrebbe secondo Romani due e tredici non colui che ascolta la parola è giusto ma colui che la mette in pratica il giusto non è più non è più giusto secondo la fede di non cadere più ma è giusto perché cade e si rialza una cosa la rovescia la verità la rovescia il giusto non è più colui che crede per fede che Dio gli darà la vittoria totale perché siamo giustificati per fede ma è giusto è colui che cade sette volte si rialza no questo è non è biblico per niente e la parola è così importante che dobbiamo anche noi chiederci per quale motivo seguiamo seguiamo Gesù Cristo per questo vediamo un po' in Giamoni capitolo 6 da 24 a 27 leggiamo un po' insieme la folla dunque quando ebbe visto che Gesù non era là e nemmeno i suoi discepoli montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù trovattolo di là dal mare gli dissero Rabbi quando sei giunto qui Gesù rispose loro in verità in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati addoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà poiché su di lui il padre cioè Dio ha a posto il proprio sigillo questi qua seguivano Gesù perché avevano mangiato hanno mangiato bene erano saziati e andavano dietro a Gesù non erano non erano attratti dal messaggio perché l'importante è il messaggio vedremo cosa dice anche Pietro poi non erano attratti dal messaggio dal carattere di Gesù ma dal loro dai loro pance perché volevano mangiare allora wow questo qua è veramente il salvatore quando lui fa il miracolo wow questo è veramente il salvatore che aspettavamo ma non volevano essere salvati dai loro peccati e poi vediamo che in Giovanni 6 da 52 a 54 possiamo leggere insieme i giudei dunque discutevano tra di loro dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne perciò Gesù disse loro in verità in verità in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete vita in voi chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno e cosa significa mangiare la carne di Gesù e bere il suo sangue semplicemente studiare la parola e metterla in pratica ma loro dicevano ma questo qua sta già parlando un po' un linguaggio un po' cannibalista e poi vediamo bene cosa dice lo spirito di profezia leggiamo cosa significa mangiare la carne e bere il sangue del figlio la parola di Dio contiene la nostra polizza di assicurazione sulla vita mangiare la carne e bere il sangue del figlio di Dio significa studiare la parola e metterla in pratica in una vita di obbedienza a tutti i suoi precetti coloro che agiscono così diventano partecipi della natura divina e uno con Cristo respirano un'atmosfera divina che sola può dare vita all'anima alzate gli occhi verso l'alto settanta quattro quindi mangiare la carne e bere il sangue di Gesù Cristo significa studiare la parola e metterla in pratica e poi vediamo che questi qua che seguono Gesù che sono anche come noi ognuno si può identificare sia come uno come l'altro seguono Gesù e poi dopo che Gesù ha parlato così cosa fanno abbandonano Gesù come possiamo leggere il versetto 60 qua e 67 66 67 perciò molti dei suoi discepoli dopo aver udito dissero questo parlare è duro chi può ascoltarlo da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui perciò Gesù disse ai dodici non volete andarvene anche voi Simon Pietro gli rispose signore da chi andremo noi tu hai parole di vita eterna sì Pietro dice tu hai le parole di vita eterna è quello che ci trattiene ancora qua il messaggio è quello che è importante perché sono quelli che seguono come questi qua seguivano i miracoli wow tanti miracoli abbiamo mangiato tanti tanti panni allora seguiamolo perché è veramente il salvatore del mondo ma Pietro dice sono rimasti pochi sono rimasti a messaggio il messaggio di Gesù Cristo mangiare la sua carne bene del suo sangue è come diceva Giovanni pentitevi abbandonate le vecchie vie un po' come stiamo dicendo adesso santificatevi santifichiamoci come stiamo dicendo insieme qua stiamo cerchiamo la giustizia di Dio abbandoniamo il peccato cosa è la natura umana di Gesù per poter capire veramente cosa Dio ha previsto per noi ma qualcuno potrebbe dire ma questo può parlare duro voglio stare lì al mio piccolo peccato ma se facciamo così non saremo degni di poter entrare nel regno dei cieli e sempre per darci la vittoria sull'influenza del peccato c'è il secondo utensile nel luogo santo che è l'altare dei profumi e cosa ci dice Dio dell'altare dei profumi cosa rappresenta l'altare dei profumi possiamo leggere in questi versetti salmi 141 versetto 2 la mia preghiera è come un incenso l'altare dei profumi rappresenta la preghiera dei santi come scritto in Apocalisse 5 versetto 8 se possiamo leggere insieme quando quando ebbe preso il libro le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi la preghiera è importantissima per poter avere la vittoria sull'influenza del peccato nel cammino della santificazione oltre alla parola ma notiamo una cosa è che la parola è importantissima perché la parola è spirito come dice Gesù Cristo stesso in Giovanni capitolo 6 versetto 63 la parola che vi ho detto è spirito e vita significa che quando mi metto a studiare la parola sono in contatto con lo spirito che ha ispirato la parola perché è scritto in 2 Timoteo 3 16 ogni scrittura è ispirata da Dio è il soffio di Dio quindi quando mi metto a studiare la parola che è spirito allora entro in contatto con lo spirito di Dio così per avere l'influenza così la parola in me se la mangio e la metto in pratica allora posso avere vittoria sull'influenza dei peccati nella mia vita e non basta qualcuno potrebbe dire allora io studio la parola tanto tanto allora sono a posto no questo dovrebbe anche essere per un campanello d'allarme studiare la parola però pensare wow cosa ho tralasciato nel luogo santo cosa c'è per la mia santificazione c'è l'altare dei profumi e smettere a cercare di avere una vita di preghiera ma la preghiera di solito a volte è paragonata a un chiedere sempre chiedere 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 alla fine cosa chiediamo a Dio cosa sono le cose che Dio vorrebbe veramente che noi potessimo chiedere perché Dio ha fatto delle promesse durante la vita di Gesù Cristo ha fatto delle promesse e prima di vedere quelle promesse vediamo un po' insieme in Giovanni 4 Gesù Cristo parla con la Samaritana e lui dice ma allora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e in verità in spirito in verità la preghiera è un atto di adorazione come posso pregare Dio in spirito questo uno punto come posso perché possiamo correre il rischio di adorare Dio in carne e nell'errore secondo la carne e secondo l'errore che è opposta adorare Dio in spirito e in verità perché la fede non è ci sono quelli che dicono tu chiedi qualcosa a Dio Dio tarda a rispondere oppure non risponde oppure anche il silenzio è un rispondere qualcun altro qualcun altro dice ma è perché tu non l'hai chiesto veramente con autorità non l'hai chiesto con fede tu manchi la fede ma la la fede di cosa in cosa perché a volte pensiamo che la fede che dobbiamo avere la fede in quello che abbiamo chiesto noi dobbiamo avere la fede nelle promesse di Dio perché se chiediamo una cosa secondo la sua volontà allora lui adempiera la sua promessa la domanda e la questione è il problema è che noi non sappiamo qual è la volontà di Dio perché vogliamo fare la nostra volontà se chiediamo le cose secondo la sua volontà non è che chiedo qualcosa e sto lì grido oh signore tu devi fare questo tipo qualcuno è malato e diciamo di pregare ho visto un po' le scene così preghiamo per la persona guarire che è malata preghiamo non vogliamo che la volontà di Dio in realtà sia fatta ma abbiamo la fede in quello che crediamo abbiamo più fede in quello che chiediamo ah tu devi la gente si agita si agita no perché ti agiti Dio ha le orecchie non ha bisogno di agitarsi di agitarti perché tu devi gridare no Dio ascolta anche anche se tu sorsura ascolti nel tuo cuore lui già capisce quindi non ha bisogno di fare oh e poi la gente pensa che pregare con autorità significa gridare e fare le scene no pregare con autorità in modo semplice è pregare secondo la parola perché lo spirito ha autorità questo è e cosa significa pregare in spirito visto che in Giovanni capitolo 6 versetto 63 la parola dice Gesù dice la parola che vi ho detto è spirito pregare in spirito in realtà significa pregare secondo la parola di Dio quindi sapere dove sono le promesse di Dio nella Bibbia ci sono almeno 3735 promesse e non abbiamo 3735 non abbiamo 3735 problemi se sappiamo dove sono le promesse di Dio Dio vuole che veniamo a lui anche lo prendiamo la sua parola Dio tu l'ha detto qua in Luca 11 tu l'ha detto lì è per quello che dobbiamo pregare la preghiera potente anche quella secondo conoscendo la parola preghiamo meglio perché diciamo non la preghiera lunga tu vieni là Dio l'hai detto qua a Caino di resistere poi mi dici in Giacomo 4 di resistere poi ma come faccio a resistere tu mi dici la tua parola e sottomettemi alla tua volontà Dio è quello che voglio e Dio addemple la sua promessa quindi queste sono un po' le cose che a volte possiamo fare gli errori anche anche quello che vi parla e come abbiamo detto della preghiera Gesù Cristo nel suo ministero ha parlato di quattro cose importanti di cui dobbiamo pregare che sono importantissime non diciamo che oltre a queste cose possiamo anche pregare per tutto quello che vogliamo ma la preghiera è un po' come 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 un percorso di studio tu fai l'elementare poi tu fai questo poi arrivi al superiore poi arrivi che sono quelli che secondo la quantità di luce che hanno ricevuto chiederanno le cose in modo sì secondo la quantità di luce e Dio è misericordioso e accetta tipo Gedeone lui chiede lui gli dice Dio gli dice tu andrai a salvare il mio popolo da Madianiti tu farai questo lui dice ma Dio dammi un segno dammi un segno capito Gesù Cristo non ha mai detto a Dio dammi un segno vediamo Dio comunque viene scende al nostro livello per farci crescere poi c'è qualcuno che chiederà ma Dio non voglio voglio questo sono le cose materiali però quando cresciamo le cose materiali non le chiediamo più chiediamo le cose spirituali perché tanto lui l'ha detto in Matteo 16 Matteo 6 di quelle cose non vi preoccupate di mangiare di bere capito quindi Dio vuole che noi possiamo andare dal livello elementare e crescere con la fede e Gesù Cristo ci chiede in Luca 10 versetto 2 leggiamo insieme quattro cose importanti e diceva loro la messe è grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe un'altra cosa per cui Gesù Cristo vuole che preghiamo Matteo 26 versetto 41 Vigliate e pregate affinché non cadiate in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole Luca 11 33 se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono e Matteo 5 55 ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano se Gesù Cristo nella sua missione il suo ministero quando leggete i Vangeli quattro Vangeli Gesù su queste quattro cose Gesù insiste non è detto che Gesù non vuole che preghiamo per altre cose altri problemi però lui vuole che noi possiamo crescere arrivare a questi livelli avere la sua statura perfetta come lui le cose materiali Dio ci pensa ci pensa Dio quello che mi importa è sapere se non voglio disonorare non devo disonorare il mio Dio trascrivendo la sua legge pregando per gli operai perché gli operai sono pochi per la tentazione per non cadere nella tentazione per lo Spirito Santo come ci sono quelli che citano Matteo capitolo 7 chiedetevi sarà dato loro dicono allora dobbiamo chiedere tutto no secondo il contesto in realtà Gesù vuole che chiediamo lo Spirito Santo perché è la cosa di cui abbiamo il più bisogno e per andare alla conclusione qualche minuto due o tre minuti andiamo a parlare un po' del candelabro che è un'altra un'altra cosa importantissima nel luogo santo per poter avere la vittoria sull'influenza del peccato cos'è il candelabro? possiamo leggere in Esodo 25 da 31 a 33 farai anche un candelabro d'oro puro il candelabro il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello i suoi calici i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo con con il candelabro dai lati gli usciranno sei bracci tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro da un altro sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore e sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla con un pomo e un fiore lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro ok di cosa aveva bisogno il candelabro per poter funzionare se leggiamo in Levitico 24 solo il versetto 2 ordina i figli di Israele di portarti dell'olio d'oliva puro vergine per il candelabro per tenere le lampade sempre accese cioè il candelabro deve dare la luce e per poter dare la luce ha bisogno d'olio nella Bibbia sappiamo cosa rappresenta l'olio cosa rappresenta il candelabro per avere un'idea più netta di cosa rappresenta il candelabro abbiamo in Apocalisse 1 da 12 a 13 versetto 20 leggiamo insieme io mi voltai per vedere chi mi stava parlando come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese sette chiese quindi il candelabro rappresenta la chiesa e la chiesa la chiesa non è che sono le mura la chiesa siamo noi quindi Dio ci vuole riempire del suo spirito in modo che noi possiamo essere la luce del mondo come dice Matteo capitolo 5 voi siete la luce del mondo però per poter riflettere la luce dobbiamo ricevere l'olio cos'è l'olio? Isaia 61 versetto 1 lo spirito del Signore di Dio è su di me perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi l'apertura del carcere ai prigionieri amén lo spirito del Signore è l'olio lo spirito del Signore è su di me e mi ha unto quindi lo spirito del Signore è l'olio noi siamo la chiesa Dio ci vuole riempire del suo olio ma ricordiamoci che il nemico anche lui ci vuole riempire ma di cosa visto che lo spirito è l'olio il nemico ci vuole anche lui riempire del falso olio che anche sono i sette falsi spiriti perché ricordiamoci in Apocalisse capitolo 5 quando lo spirito quando l'agnello di Dio che è davanti al trono scende quando Gesù Cristo scende in cielo lo spirito scende sulla terra sotto forma di lingua di fuoco quando Gesù Cristo è unto come Arone era unto quando si dice nel Salmo con l'olio che è come bene quando i fratelli dimorano insieme è come l'olio versato sulla testa di Arone che va sulla sua barba qualcuno legge così e dice ma qual è il rapporto con il piano della salvezza è Gesù Cristo rappresentante che è il nostro sommo sacerdote quando lui è unto in cielo con l'olio che è lo spirito santo scende e va sui discepoli che sono insieme come è bello quando i fratelli dimorano insieme e sono i sette spiriti la pienezza dello spirito ma il nemico anche lui ci vuole riempire dei sette spiriti ricordiamoci quando in quando in Matteo mi sa dodici quando Gesù Cristo parla della casa che è stata pulita tutto tutto e arriva uno spirito maligno che vede che la casa è tutta pulita cosa fa? va a cercare altri sette spiriti più più potenti e la condizione di cui l'uomo è peggio della peggiore della prima quindi questo è il piano del nemico Dio ha il suo piano per poter riempirci della pienezza dello spirito quindi dovremmo la cosa di cui abbiamo più più bisogno ci sono tantissime cose da dire nel luogo santo questo sono un riassunto e cose molto profonde per poter avere l'olio Gesù Cristo è l'oliva che è stato prezzato che è stato che è stato schiacciato se posso dire così per poter dare l'olio perché Gesù Cristo solo quando in Giovanni 7 lui dice se non vado a padre non riceverete lo spirito perché Gesù Cristo la croce deve essere schiacciato deve essere tritato per poter dare l'olio di cui abbiamo bisogno e ricordiamoci per concludere della parabola dei dieci vergini quale vergine siamo la parabola quando parliamo di donna nella Bibbia è la chiesa il candelabro in sé è la chiesa l'olio è il Spirito Santo il fuoco il fuoco la fiamma che dà è la parola perché come è scritto nel Salmo 119 versetto 105 se mi ricordo ancora bene la tua parola è una lampada ai miei piedi queste dieci vergine avevano tutte la parola quindi vediamo l'interconnessione fra il candelabro preghiera e parola posso studiare la parola quanto voglio ma se non ho lo Spirito Santo non capirò la parola che è stata ispirata dallo Spirito Santo e se non prego non riuscirò è motivo per cui quando vogliamo studiare preghiamo prima perché se non preghiamo non riceviamo lo Spirito Santo e possiamo capire le cose in modo carnale invece di capire le cose in modo spirituale e l'ultima slide in questa ultima slide c'è Paolo che si che parla ai cristiani di diverse chiese e fisini filippesi e colossesi e chiama ognuno di loro tutti i santi come abbiamo detto la concessione di santo non è quello che ha fatto qualcosa nella sua vita allora abbiamo hanno indagato la chiesa romana cattolica ha indagato che sì quella lì ha fatto qualcosa la madre Teresa ha fatto qualcosa allora è stata beatificata mettiamo il suo nome e la gente va a pregare padre Pio per caso emotivo perché si sente sempre sui sentimenti perché si sentono più vicini a quelle persone che di Gesù Cristo perché in realtà la vera la verità sulla natura umana di Gesù Cristo è stata loro nascosta perché se si sentono più vicini a questo padre Pio madre Teresa madre perché sanno che sono stati fatti come loro rubano la gloria che in realtà dovrebbe essere quella di di Gesù Cristo ma noi tutti siamo santi per fede e perché per fede perché la fede per fede dobbiamo credere che Dio ha creato i mondi se creiamo crediamo che Dio ha creato i mondi sappiamo che Dio chiama all'esistenza le cose che non sono come se fossero quindi per fede se crediamo crediamo allora siamo santificati per fede perché riceveremo per forza lo Spirito Santo per fare in modo che noi possiamo camminare non secondo la carne ma secondo lo Spirito che Dio ci benedica e ci dà il suo Spirito in Gesù Cristo il nostro unico Salvatore Amen Grazie a tutti Grazie a tutti.